Starliner ha attraccato alla Stazione Spaziale Internazionale. È il primo volo riuscito dopo due tentativi fallimentari. La capsula di Boeing era partita dal Kennedy Space Center in Florida, con 360 kg di rifornimento e Rosie the Rocketer, un manichino munito di sensori per preparare l'esperienza dei futuri passeggeri umani, che saranno presenti già dal prossimo viaggio della capsula. Starliner punta a fare concorrenza alle navette Dragon di SpaceX, appartenenti a Elon Musk.